Questo canale è sponsorizzato da Star Select. Acquista giochi digitali Nintendo con il codice sconto Cydonia, trovi il link in descrizione. È che siamo a poche ore dal reveal del contenuto del Nintendo Direct, quindi in qualche modo chi vincerà oggi secondo me è da considerarsi anche graziato dal Direct, capisci? Cioè la vittoria è parte del Direct, è parte del pre-show del Direct, ok? Ok. Quindi bisogna vincere perché si fa parte di un flusso di coscienza importante. Allora, però usiamo quindi la lotta di oggi come pronostico per il Direct. Per il Direct, ok. Naturalmente Pokémon... Spiegami le regole. Pokémon non vale, cioè non possiamo decidere che se vince uno vince l'altro annunciano Pokémon perché non vale. Ma infatti pensavo più al mood generale. No, 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 se vinco io c'è roba bella di Animal Crossing. Ok. Se vinci tu? Non lo so, qualsiasi cosa, è l'ultima cosa che voglio Animal Crossing nel Direct. Appunto, appunto, per quello, io voglio roba di Animal Crossing. Se voglio io, demo di Shin Megami Tensei available now. Quindi. Andiamo. E lasciamo che il metronomo effettui il giudizio, ma non prima di aver visto il nickname che avete scelto per noi. Per Dusclops, Ninto Nintendo 1 è tutta lore. Sceglie Combustione, spero che questa lo sia meno, perché è stato bruciato ed è andato KO a causa della fior tempesta che ha alimentato la fiamma che lo stava bruciando. Grimmsnarl e Machamp invece hanno un nickname di coppia. Grimmsnarl è Oingo e Machamp è Boingo. Insieme sono i... Oingo, Boingo, brothers! Questi nickname sono stati scelti da diversi di voi perché erano i fratelli Darby e hanno di nuovo perso malamente. Meshprit diviene scelto da Michele Granata perché nonostante l'impegno non ha comunque concluso niente. Ha ribaltato il tavolo praticamente, giusto? È un ribaltato... Ma come hai fatto a mettere il game? In gioco ho dovuto usare un rombo per simboleggiare il tavolo. Tavolo, ok, però c'è il... Sì, sì, sì. In Teleon diviene Casey Green, scelto da Gabriele Nanni perché è il creatore del meme This is Fine, quello del cane con la casa che prende fuoco, perché ha usato due volte Fiamma Fatto, dando fuoco all'ambiente circostante e nonostante tutto stesse andando storto, lui continuava a eseguire mosse d'attacco nella vana speranza di cambiare qualcosa. Polivrat diviene poi Sisor e Politoed Sisters, quindi altro nickname di coppia, scelti dal Signor D perché hanno usato entrambi Forbice X nello stesso turno. Merda! Nella mia squadra Miltank diventa Signorotta, scelta da Edoardo Lofaso perché proprio come i signorotti del 600 mandavano altri poveri cristiani a fare le cose al posto loro per salvarsi la pelle, anche Miltank non è scesa in campo e ha lasciato che il resto della squadra facesse il lavoro sporto. Questa è una critica, critica sociale alla tua squadra, bravi ragazzi, vedete, vedete la nobiltà schifosa del team Chiara che manda la plebe a morire, mica come noi, da noi sono tutti uguali, la vita vale... Tutti morti... Come era Totò, la livella? La livella... Alcremi diventa poi sottinteso latte pastorizzato, quindi pastorizzato è basta perché il nickname sono 12 caratteri. Perché L puntato non c'entra comunque. Ok. Scelto da Nicola Perino perché si è curata più volte e nelle scorse d'ambatto l'era non potabile. Giusto. E tra l'altro la pastorizzazione è un processo termico tramite il quale si minimizzano i rischi per la salute. No, lo sapevo. Io sì. Anzelf diventa Apollo Creedici, scelto da Alien Draven, perché si chiamava Apollo 13. Apollo Creed, come ben sai, è un pugile della serie di Rocky. Guarda, no. E la motivazione è che nonostante il boost ha perso mezza vita con un solo attacco... Giusto. E poi è stato paralizzato e ucciso da Machamp, che è appunto un tipo lotta, come il pugile Apollo Creed. Senza contare che da Apollo 13 a Apollo Credici è naturalmente una citazione a caparezza, quindi... Io non so nulla in tutto questo. Tantissimi layer di questo nickname. Mi fido. Molto bello. Togekiss diventa doppio perri, scelto da diversi di voi perché si chiamava Sabacus II e ha dato il colpo di grazia a Poliwrath e Grimsdard in contemporanea. Allora doppio reposte, non doppio perri, scusate. Beh, però la terminologe è da... Per concludere, Hitmonchan diventa Jen, scelto da Oma Cassini perché è entrata in campo, non ha fatto nulla a essere sempre safe, però può dire di esserci stata e perché Jen è una delle concorrenti di All Stars 6 che sta per iniziare. E ha fatto solo safe e poi è andata via tutta la stagione così? Mi piace, mi piace. Speriamo che il team Chiara sia semplicemente safe oggi fino alla fine, momento nel quale Sashay ha fanguto. Mamma mia che poeta. Ci siamo amici video spettatori. La musica degli uccelli leggendari riecheggia all'interno dei nostri organi sensoriali che non abbiamo sacrificato per le gemme di Dio e Verudiane e in campo arrivano i doppio perri pastorizzati. Esatto. Quindi, buoni per la salute. Mentre io, guarda, ho fatto una parafrasi del meme. Queste benzine mi do fuoco. Come vedi, combustione. Si prepara. Agita il Ditone all'insù e va di... Sprizza con lampo su Togikis, per favore. E si gode, ragazzi, con un Paralyso. Ah no, non può perché Recoil, niente, niente Paralyso. Pastorizzato è pronto, indica Dio e va di... Oh, non su Mesprit. Turbo o Turbo? Turbo, calcio nel culo. Combustione e carico, ma è l'altro a prendere fuoco e... La lor, ragazzi, cioè uno prende fuoco e l'altro si tira l'acqua in faccia. Va bene, ce l'abbiamo tutti e due gli elementi. Ok. Guarda lui che profondo. Lui si prepara. Agita il tavolo e va di... Volevo il Paralyso. Ecco il Paralyso. Ecco il Paralyso. Che bel rumore. Doppio perri e carico. L2. E va di... Oh, ma quante elettricità c'è, ragazzi? Sì. Tra l'altro ti puoi... Uddi... Stavo dicendo ti puoi paralizzare il tuo. E io mi curo. Bene. Male. Pastorizzato è pronto. Eh? E va di... Ragio scossa perché ci sono state poche mosse elettro in questo... In questo incontro. Tirati sull'attacco speciale e va via. Perfetto. Si può andare via. Perché quanto è probabile? Non è al 100%. Oh, forse sì. In realtà forse sì. Dai, combustio. Aereo assalto. Guarda un assalto. E' un patrone, un patrone, un scatenze. Il malo. Il doppio perri nemico. E' carico. Dai, basta! Ma ha fatto full par a 40 turni! Se non ho montato altre sue mosse nella Dun Battle è perché... Godo! Non perché Godo. Godo per il Dragodo. Mentre... Non l'ho montata perché non ha mai attaccato. In compenso lui... In compenso Richard Benzo. Lui è attaccato sempre. Ammazzami. Ammazzami Mesquid. Ok, va bene, va bene. Perché non avrei sopportato un beneno su un Dragodo. Quindi... Bene! Abbiamo anche l'acqua... Ah, già. E' vero. Abbiamo anche l'acqua... Ci vai! Abbiamo, siamo in vacanza. Arriva KFC in campo. Per me è KFC. KFC è carico. L'angolo è sempre di 45 gradi. E va di comete! Fai del male a tutti e due. Bravissimo. Ottimo! Nel cielo pandistelle si è avverato cacocrema. Doppio perri ha appena ricevuto un doppio perri. Ma vuole rispondere con... Sprizzalampo. Ma davvero? Ma su Intellion? Ragazzi vi ricordo che vi stiamo condannando, vi sta condannando a un direct di Animal Crossing. Mica tutto! Che contiene Animal Crossing. Guarda, guarda, guarda il pubblico di Nintendo che dice no. Ma non abbiamo mai detto solo su Animal Crossing o solo su Scimicami. Mi fai esagerare. No, perché dovrei... Mi fai metterti in cattiva luce nonostante non sia quello che hai detto. Jan entra in campo. Quindi Jan... Casey Green è pronto. Indica il nemico. E va di sfuriate. Su Togge 5 hit potrebbero bast... No. Non crit. 2 crit. Gen è carica. 1, 2, 2, 1. E va di Grafio. Sapete, è critta di Grafio. Combustione è pronto. Solleva il frangiume. E va di... No. Cioè sì, ma no. Sì perché è un dot che annulla l'acquanello di doppio perri. Annulla anche il mio, ma doppio perri deve morire. Casey Green si prepara. This is mica tanto fine. E va di Psico Zanna che invece è finissimo su Gen. Dai, fine... Madonna però, i target, i target, i target. Vabbè, 2 kill. Siamo in vantaggio. Tu non hai fatto la seconda kill. God. Combustione che ricordiamola. A più 1. Si prepara. Agita il ditello e va di... Devasto. Eh, però è poco efficace. A più 1 ti dovrei fare comunque un po' male. Ma è poco efficace. Ora comunque c'è la grandine. Ma siamo gli unici a acquanellare. Ci fa esattamente lo stesso danno. 7 in su, 7 in giù. Signorotta. Entra in campo. KFC è pronto e va di... Urlo. È pronto KFC! Signora! I polli! Altra balla che racconti tu il tuo giornale di merda! Merda come te! Botte della grandine. Casey Green ha preso un sacco di danni e poi... Non ha fatto un cazzo direttamente. Non ha né preso botte, né dato botte. Va bene. Casey è pronto. E va di... Il riposo! Il riposo! Le cure ci hanno colpito duramente nella scorsa Dan Battle e oggi le restituiamo con gli interessi. Bravo KFC! Mi fa ridere. Pensai che sia sbagliato questo nickname. Ma attenzione a signorotta che va di taglio. Stub fa male, sai? Gen è pronta. Le spalline vengono agitate. Divinazio! Su quello slot lì, però Hitmoncia non dovrebbe far malissimo. Combustione è pronto. È piromante. E con questa piromanzia va di extra senso su Hitmoncia. È però, è però. Signorotta è pronta. Urla davanti ai nemici e va di aia. Gelo lancia. Eh, questa la sento, eh. Soprattutto se dovesse fare più di 3 Hit. Combustione si prepara. Agita il ditello all'insù. E va di turbo fuoco su Mil Tank. Dai! Un dot per un dot. Sì, un dot per un dot. La giustizia, ragazzi. Combustione sta facendo una partita. Acquanello comunque una delle mosse TRS, secondo me, nelle Dan Battle. Ultimo turno. Vi dormo. Gen è carica. Prepara la combo triangolo quadrato. No, prepara la combo. Niente ancora triangolo quadrato. Concentrazione. Studia la combo. Eh, sì, ma dopo farà malissimo. Combustione è carico. Va di palla di fuoco. Psichico Sweet Monchan, per favore. Sweet Monchan, lo tiriamo giù, lo tiriamo giù. Eh, ma ero di palle. Però vabbè, dai, ormai... Doppino? Ah no. E niente mi fai. Ok. Ok. Ok, oh, raga. Casey Green si prepara. Rimuove, guarda, addirittura i guanti neri e va di semitraglia. Godopoli. Ora restituiamo quelle cinque hit famose. Dai con queste palle dal dito. Dai ancora, tira le palle. Vabbè, forse Turbo Fuoco ce la fa a killarti, eh. Signorotta si prepara a gestire il suo ultimo turno con la forza antica, ma non mi dovresti fare male. Infatti, Jen è pronta. Bringa all'interno della runway e va di metal testata. Eh, questa potrebbe killare. Qui no. Eh beh, sì, ora ci stava il brutto colpo, però perché hai fatto concentrazione. Ah, ma in realtà anche prima. Buona la pietrataglio. Buona la pietrataglio. Qui buona. Ah! Siamo vicini alla quadri kill proprio. Ma i on tutti tra poco. Eh, godopoli ragazzi. Godopoli. Ciao. Entra in campo Apollo Credici e c'è proprio bisogno che tu ci creda, eh. Perché la situazione non è messa troppo bene. Casey Green è pronto, nuota all'interno di un mare di piacere e poi se ne esce con gelotitti. Yes, Roni? Chi di crit ferisce, di crit. Entrano in campo le forbici. Casey Green è carico, agita il mantello da eroe e va di no. Sissor che non esce, Zor è pronto. La spirale è sempre ovale. Terra in pesta. Oh no, è di nuovo annullato il mio Acquanello. Però qui mi conviene perché in realtà ti cominci ad adottare ogni turno i tuoi due ultimi Pokémon. Quindi non mi lamento. Combustio, sei ancora più, non puoi fare male. Cuscitura d'ombra. Su Hazelf, va giù. Aia! Ma io volevo però Con l'animal crossing KFC si prepara Il pollo c'è Batti terra Mi faccio male combattere tu Vabbè Ti sei comunque fatta male anche te Ora se la fai in solo Chiara vince con Poliwrath Sai che me ne ha Ah no ok Veleno shock Si però funziona se sono avvelenati gli altri Non se si è avvelenato te Gianni Che fa più danno se la target è avvelenato Vediamo eh Ok metà vita Si gode Come ci si sente aver già fatto doppia kill Prima ancora di giocare il turno A meno che io non ti ammazzi A meno che io non Ragazzi io ho vinto Ok Capiamoci ho vinto Non è che ho perso Ho vinto Ho ancora tre poti Non posso perdere Giusto Giù Siamo tutti da Hai presente il meme di Leia Padme Si Padme Scusami hai ragione Ragazzi è sbagliatissima questa cosa Perché sono un attacker fisico Un altro attacker fisico Ma come posso non Oingo e Boingo Ma anche perché Se perdessi Cioè non potrei non farlo con il sorriso Con Oingo e Boingo che muoiono Quindi andiamo Oingo Boingo Brava Ok adesso però attacca Un po' Boingo e Boingo Dai Vanno anche uno dopo l'altro Guardali Boingo Ho fatto schifo Boingo Gira Oh ma Buono gira vita Guarda fa male 80 bp se non faccio Dello sbaglio Buono Bravo Boingo Si prepara Taglia Corto con questa battaglia Per favore Martellata stab Mi farai un male porco Ragazzi sei vinto Vero Sei vinto Ci sono tre pokemon Due e mezzo Ora sei vinto Freeze ti prego Freeze si fa la danza del palle Davanti al freeze Ti prego Oingo è carico Mostra la gemma rossa Con orgoglio E va di attacco rapido Che secondo me Non basterà Prenderla kill E invece Cazzo che è successo Ragazzi ma cos'era Un anime Hanno fatto solo crit E non c'era alcun motivo Per il quale Potessero fare crit In continuazione Ma veramente Hanno fatto solo crit Se hanno attaccato Hanno critato Sono Ingo e Boingo Davvero Davvero Ragazzi Come Saedonia diceva All'inizio di questa battaglia Purtroppo I team Malvagi Nei confronti del pubblico Non vi permettono Di vedere tutti i pokemon In campo Quindi non avete avuto La possibilità Di Merda Che probabilità c'erano Che proprio Quando In questa puntata Ho mosso Questa giusta critica Quindi mi dispiace È tutta registrata È iniziato questo video Dicendo che I team Sbagliati Non fanno vedere tutti i pokemon E poi l'hai fatto anche tu Ipocrita L'ipocrita finale Proprio Non me l'aspettavo Bene signori È arrivato il momento Di scegliere i nicknames Per noi E se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel like A forma di Brutto colpo Però Ci pensi Che cosa assurda Cioè tu sei contento Ma il colpo è brutto Dovrebbe essere bel colpo Perché è brutto È un'offesa a quel colpo È brutto colpo Mamma mia È un po' schifo E invece tu sei contento Di vederlo Effettivamente è una traduzione Un po' infelice Per critica di Merda Mi ha dato corda È sempre brutto colpo Sia che tu lo Lo infligga Sia che tu lo riceva Quindi Invece dovrebbe essere Bel colpo Bravo Capito Complimenti Petizione In descrizione Nel Trastar Select Avete di Dì Il nostro sponsor di fiducia Che viene in maglietta Tema anime Serie tv e videogiochi Col codice sconto Giovanni Non avrete nero di sconto Su ogni acquisto Noi ci vediamo Oggi pomeriggio Ore 5 Per una mega traversata Che comincerà con il pre-show Del Nintendo Direct Poi Nintendo Direct Poi Nintendo Treehouse E poi si va a scrivere Il video O sulla grande novità Delle 3 Magari un Breath of the Wild 2 Se dovesse essere annunciato O direttamente Un video analisi su 1 Barra 2 Giochi Pokémon Che stiamo attendendo In uscita Diamante e Lucente Per la splendente Leggente Pokémon Arceus La sedione chiara è tutto Ciao Sono stato Direct con voi Mamma Grazie a tutti